Come vi anticipavo, quest'anno vogliamo iniziare un pochino in modo diverso perché le scorse volte ci siamo focalizzati molto su delle tematiche come la famiglia, come le relazioni tra pari, con i vostri amici, abbiamo parlato di ansia ma ci siamo resi conto che su tematiche un pochino più profonde, magari anche complicate da affrontare, non ci eravamo soffermati e quindi abbiamo deciso un pochino di affrontare questi argomenti. Quindi sia con me faremo ovviamente la scala del Minnesota e andiamo comunque ad analizzare gli item del Minnesota associati a queste tematiche, mentre con l'altra psicologa andrete ancora di più nel profondo ad analizzare queste tematiche. Perché? Perché sono importanti poi sia per voi stessi, proprio per avere una conoscenza, una consapevolezza piena di quello che voi siete, sia poi per il concorso, perché al concorso sia nel Minnesota ci sono queste questioni, ma anche appunto durante il colloquio col perito e anche durante appunto gli altri test o i questionari, perché sempre più si va ad analizzare quella che è la vera vostra motivazione a fare il concorso, le vere vostre credenze, valori, attitudini. E quindi molto importanti, abbiamo deciso di partire quest'anno proprio con questi due temi, che sono due temi molto importanti e strettamente correlati tra di loro. Quindi cosa ho deciso di fare stasera? Di partire dalla piramide dei bisogni. Tutti noi ci muoviamo, quindi agiamo, interveniamo nel mondo perché ci muovono dei bisogni. Bisogni che Maslow divise in bisogni primari, bisogni sociali e bisogni del sé. I bisogni primari, noi siamo fortunati perché viviamo nel lato giusto del mondo, chiamiamolo così, i nostri bisogni primari sono soddisfatti, i bisogni fisiologici, quindi mangiare, bere, dormire. In altre parti del mondo purtroppo anche oggi non è così. Quindi in altre parti del mondo non ci sono gli altri bisogni perché neanche i bisogni fisiologici vengono soddisfatti, ok? Perché se noi non soddisfiamo il bisogno di mangiare e dormire non possiamo sopravvivere, ok? Quindi non possiamo avere gli altri bisogni che poi vediamo. Quindi il bisogno fisiologico noi tutti lo soddisfiamo, o almeno mi auguro. E il bisogno poi di sicurezza, ovvero avere una casa, avere una sicurezza familiare, una sicurezza morale, quindi avere dei valori che ci guidano, ok? E questi sono i bisogni primari che tutti noi dobbiamo soddisfare per sopravvivere. Al che si arriva ai bisogni sociali? E qui abbiamo i due bisogni fondamentali. Il bisogno di appartenenza e il bisogno di stima. Di appartenenza cosa vuol dire? Vuol dire appartenere ad un gruppo che può essere la famiglia, l'affetto familiare, l'amicizia, le relazioni in generale e la stima. E qui abbiamo appunto l'autostima, l'autocontrollo, la realizzazione. E poi, dopo aver soddisfatto questi bisogni che vengono definiti come bisogni sociali, abbiamo il bisogno del sé che è l'autorealizzazione, ok? Quindi il volersi realizzare, il voler raggiungere degli obiettivi, eccetera. Quindi cosa vi chiedo oggi? Ve lo chiedo così a bruciapelo, senza pensarci troppo, chi vuole mi risponde. Quanto senti di aver soddisfatto il tuo bisogno di appartenenza ad un gruppo? E cosa vuol dire per te essere appartenere ad un gruppo? Chi vuole rispondermi? Essere accettato in un gruppo sociale? Un gruppo tipo? La società, gli amici, i parenti. Ok, tu quanto senti soddisfatto questo bisogno? Tanto da starci bene, no? Ok, quindi tu attualmente hai un buon gruppo di amici, senti di appartenere a tale gruppo, eccetera. Sì. Ok, e questo per te è una sfera importante di vita? Eh sì. Ok, mentre il bisogno di stima, quanto senti di aver soddisfatto il tuo bisogno di stima e cosa vuol dire per te averlo soddisfatto? Chi mi risponde? Qualcun altro? Sicuramente raggiungere i propri obiettivi, andando oltre i limiti, nel senso non fermandosi mai neanche di fronte alle difficoltà. Già il fatto di provarci e continuare a provarci costantemente, già questo ti dà molta autostima, a parer mio. Ok. Quindi non arrendersi di fronte alle difficoltà. Ok, per te quanto è soddisfatto in questo momento? Cioè tu hai stima di te oppure... Sì, assolutamente. Cerco sempre di dare il massimo in tutto quello che faccio, in tutti gli ambiti, in tutte le cose che mi riguardano, quindi assolutamente mi sento molto soddisfatto in questo. Ok. Allora, mi raccomando, queste due cose è importante andarci a pensare, a riflettere, dare anche delle risposte sensate, perché voi fate il concorso e lo fate sicuramente per un bisogno di stima, che può essere per rafforzare la vostra autostima, ma anche magari per essere rispettati a livello sociale, a livello di gruppo, ma anche magari per appartenere ad un determinato gruppo che è quello delle forze armate. Quindi decidete di fare il concorso proprio per appartenere a quel gruppo perché voi volete soddisfare il bisogno di appartenenza, in quanto per voi è importante lavorare in gruppo, far parte di un gruppo, condividere valori, credenze, eccetera. Ok. Quindi mi raccomando, queste cose, quanto più possibile rifletteteci sopra e soprattutto scrivetele perché poi al concorso vi verranno poste delle domande un pochino così a bruciapelo e dovete essere in grado, ok, di argomentare. Ok, andiamo avanti. Quindi, allora, perché affrontiamo il tema di autostima e giudizio insieme? Perché l'autostima banalmente è proprio il giudizio che ho nei confronti di me stesso, ok, ma anche perché autostima e giudizio sono strettamente uniti. Quindi, perché se ho bassa autostima, cioè se io in me stesso non credo per tot motivi, perché tutti noi nasciamo in realtà, diciamo, cresciamo da piccoli durante l'infanzia con un'autostima alta, perché quando siamo piccoli e siamo in culla, siamo dei neonati, tutti ci dicono, ah, che bel bambino, che begli occhi, ah, wow, ha fatto il vocalizzo, ha parlato, ha battuto gli occhi, oh, mi ha guardato. Quindi, queste cose accrescono la nostra autostima, ok? Quindi noi abbiamo un buon nastima di noi stessi quando siamo piccoli, poi però succedono delle cose nella vita, no? Entriamo a far parte, entriamo a scuola nel contesto scolastico, magari anche i genitori magari ci iniziano a giudicare. Perché la nostra autostima può o decadere, quindi ridursi, oppure aumentare. Ecco perché autostima e giudizio sono strettamente correlati. Perché? Se ho bassa autostima, quindi se io non credo in me, se ho poca stima nelle mie capacità, in me stesso, in quello che credo, per me peserà molto di più il giudizio degli altri, ok? Giudizio che può essere sia positivo che negativo. Però il giudizio degli altri andrà a pesare tantissimo su di me e influenzerà le mie scelte, influenzerà il modo in cui agisco. Se ho invece un'alta autostima, il giudizio degli altri intaccherà meno la mia persona. Oggi abbiamo tutti un po' paura di quello che è il giudizio degli altri, magari anche altri che non conosciamo. Indosso una maglia di marca con la scritta tanto, tanto grossa, perché? Perché mi pesa il giudizio degli altri, perché voglio che gli altri vedano quel marchio, perché per me quel marchio ha un significato. Parlando della Ferragni, no, compro l'uovo della Ferragni perché per me ha un valore acquistare quell'uovo, ha un giudizio. Molto spesso, nonostante gli sforzi per mantenere l'autostima alta, perché molti di noi hanno un'autostima alta e fanno di tutto per mantenerla alta, molte volte però il giudizio degli altri comunque tende a ferirmi e incidere sulle mie performance. Quindi dobbiamo stare molto attenti a questi aspetti e davvero cercare di comprenderli proprio per non farci attaccare. Grazie a tutti.